È un provvedimento che pur essendo definitivo non è definitivo perché dà la possibilità di ricorrere alla Commissione regionale di garanzia, alla nazionale. Io lo farò immediatamente questo discorso. Che cosa non la convince di questo provvedimento? Le motivazioni non sono politiche, sono amministrative, nel senso che nel provvedimento vengono citate...